Sicurezza? Presente. Legalità? Presente. Pulizia? Presente. Verde? Presente. Raccolta differenziata? Raccolta differenziata? Presente. A Lecce, la raccolta differenziata è una realtà, ma c'è bisogno dell'aiuto di tutti per farla crescere. Cambia l'ambiente. Differenzia con la mente. Informati presso gli uffici comunali o vai su www.raccoltarifiutilecce.it Enti gestori ecotecnica AXA Sappiamo che è troppo importante per questa città, per i nostri tifosi, quindi ci prepareremo al meglio per affrontarla nel migliore dei modi. Io pure, ormai sono nove anni che sto qui e quindi so quanto è importante il derby. Per più di qualcuno non è una partita, ma tra parentesi è la partita, l'ha ripetuto pure il presidente. Quindi io che sto da tanto tempo so benissimo quanto ci tiene la gente. Tra i grandi ho affrontato qualche derby sia a livello di settore giovanile in Terminal, ma sicuramente non è paragonabile a un derby di questo livello che per noi ha tante motivazioni, non solo quella appunto del derby come rivalità storica, ma anche quella appunto di ottenere punti importanti. Perché quest'anno il derby di Bari non è soltanto la squadra da derby, ma anche una nostra diretta concorrente per la salvezza. No, è la prima volta che faccio un derby, un vero derby diciamo. L'ho fatto quanto ero piccolo, però da professionista è la prima volta. Aspetto questa partita da un anno e mezzo, quando sono arrivato già parlavano di questa partita. Soprattutto bene perché in Serie A e adesso giochiamo questa partita con tutto l'impegno e questo atteggiamento che abbiamo avuto a Napoli. Vediamo il risultato, però è importante per noi questi tre punti. perché il derby lo devi vincere per la gente di Lecce, per la città, per la società, per tutti i leccesi e anche per questi tre punti che se li prendiamo sono molto importanti per noi e così mettiamo il Bari più o meno in una situazione difficile. Sono molto contento perché sono arrivato qua, sono molto contento perché anche posso aiutare questa squadra per salvarci in Serie A. Sono molto motivato, ce l'ho tanta voglia di giocare qui e la mia presentazione arriva in questo momento un po' particolare qua che è una partita, un derby che qui manca da dieci anni. Io sono molto motivato, ce l'ho tanta voglia e voglio giocare. Ma che non sia una gara come le altre non lo neghiamo, non è che non lo avvertiamo, lo sappiamo. Anche lo sappiamo da sempre, da tempo, d'altronde pur magari vivendo da altre parti o in altri anni queste storie si conoscono, si capisce in Italia l'importanza di un derby. E quello tra Bari e Lecce è un derby, è normale, è logico che si comprenda. E proprio per questo, proprio perché poi c'è la classifica, non è una gara come le altre, però va inquadrata anche in questo modo. Perché poi il campionato non finisce e non si esaurisce in una gara con il Bari. Il campionato continua e obiettivamente per me è molto, ma molto più importante l'obiettivo finale. La vera vittoria del Lecce è rimanere in Serie A.